Tranquilli è un termine che non ci deve appartenere, nel senso che dobbiamo essere concentrati e ben preparati perché la partita è vero che veniamo da una vittoria difficile, ma le vittorie quando sono difficili significa acquisire ancora più convinzione, ancora più mentalità, ma affrontiamo domani un avversario diverso rispetto al Genoa, un avversario che credo che viva per preparare questi tipi di partite contro un club come il Milan, uno stadio come San Siro, che ha un gioco evoluto, con qualità, con velocità e quindi dobbiamo essere pronti per sapere mettere in campo una prestazione all'altezza delle nostre qualità. Per domani abbiamo qualche problemino, ma sono tutte situazioni che cercheremo di capire meglio domani mattina e mi riferisco a Benasser, a Ibra, a Cianaloglu, a Teo, che oggi hanno avuto tutti difficoltà ad allenarsi, ma domani mattina saremo un po' più chiari sulle loro situazioni, quindi aspettiamo domani. Nel Milan negli ultimi sette anni non è mai arrivato nelle prime quattro posizioni, quindi per noi sarebbe un traguardo importante, che significherebbe continuità di crescita di questo gruppo molto giovane, significherebbe che il lavoro che abbiamo fatto quest'anno e mezzo ha portato a una crescita dei singoli giocatori del club molto positiva, quindi l'obiettivo c'è ed è importante. Ripeto, mancano sette partite e noi siamo concentrati su quello. Poi il futuro, nessuno lo può prevedere e non è questo il momento di parlarne e non sono io la persona più indicata per parlarne. I nostri dati non abbiamo nessuna preoccupazione in questi termini, credo che se pensiamo alla partita scorsa, dal punto di vista tecnico non siamo stati i migliori di sempre, questo sì, ma non dal punto di vista fisico e poi comunque le partite o le chiudi o se no le soffri fino alla fine e noi siamo stati bravi a soffrirla e bravi a vincerla con determinazione, con spirito di sacrificio e domani un'altra partita credo che sarà diversa, completamente diversa dal punto di vista tattico che si affrontano due squadre che prediligono la fase offensiva, prediligono costruire e quindi magari ci saranno più spazi ma ci vorrà molta organizzazione, ci vorrà molti tempi di gioco e quindi domani essere preparati ad affrontare un avversario che per qualità tecnica e per posizioni in campo e per velocità può creare difficoltà e ha creato difficoltà a tante squadre. Io credo che nel calcio e nel campionato italiano nessuno ti regala niente, se tu vuoi vincere le partite le devi meritare, devi cercare di giocare meglio degli avversari, devi metterci più attenzione, più concentrazione, più determinazione e assolutamente ripeto che il Sassuolo avrà preparato questa partita nel miglior modo possibile, ha avuto anche un giorno in più di riposo ma questo è il calendario e noi ci siamo preparati bene al netto di qualche difficoltà che domani mattina speriamo di avere qualche risposta positiva.